ciao a tutti oggi vi suggerisco un ciambellone yogurt e limone ma di tutto sgusciate le uova e li mettiamo dentro una terrina insieme allo zucchero e al pizzico di sale quindi cominciate a lavorare aggiungete tutto lo yogurt potete utilizzare o yogurt bianco o altrimenti potete utilizzare il yogurt al limone e tutto l'olio sedacciate farina e lievito quindi unite la scorza grattugiata dei limoni e la farina così continuando a lavorare versate in uno stampo imburrato infarinato io anche se in silicone non mi fido mai e quindi in burro in farina quindi mettiamo in forno a 180 gradi statico caldo per circa 40 minuti grazie a tutti